Buongiorno a tutti, in questo video volevo parlarvi del peccato di Tabarugio, corruzione, fitna, che è presente sia nella Bibbia che nel Corano. Che cosa si intende? Si intende quella donna che mostra le proprie nudità in pubblico. Già conoscete i versetti sull'Ijab, Sura 2431, Sura 33, 59 e 53, la famosa cortina. Più tardi uscirà un video che parla invece delle scritture cristiane. La modestia è indicata anche nel cristianesimo, nelle lettere di San Paolo, prima lettere ai Corinti, capitolo 11, prima lettere a Timoteo, secondo capitolo, versetto 9. Chi vuole anche dei fratelli musulmani può andare a consultare anche la Bibbia. Consiglio comunque la TNM. A parte questo, cos'è il peccato di Tabarugio? È mostrare le proprie nudità in pubblico. Pensiamo ad esempio a quelle donne che si mostrano in topless. E quello è un peccato. Infatti nella Sunna è detto che la donna che mostra le proprie nudità fuori casa ha posto un velo, ovvero ha rotto il rapporto che c'è tra Dio e lei stessa. Poi nella Sunna il profeta dice anche che un terzo della bellezza femminile risiede nei capelli e da qua l'uso del velo dell'hijab, che nel cristianesimo comunque è consigliato alle donne. Quindi sappiamo anche perché l'uso è diffuso in tante chiese ortodosse e evangeliche di coprire i capelli quando si va in chiesa. Nella chiesa cattolica l'obbligo vi fu fino al 1917, quando divenne una scelta, però sempre consigliato dei parroci. Quindi in poche parole il peccato di Tabarugio è questo, mostrarsi nude in pubblico, ovvero mostrare dei propri ornamenti ciò che è oltre il consigliato. Ora, il burk è qualcosa di abominevole agli occhi di Dio. Se mi ha colpito molto un video che ho visto di un imam sciita, Islam Shia mi pare che si chiama, che sconsigliava il burk definendolo un eccesso. Quindi come si dovrebbe vestire una donna in pubblico? Innanzitutto non mostrare i segni, le parti intime, una gonna preferibilmente al ginocchio. Questo è il concetto del Chrislam, che ripeto non è Islam, ma è cristianesimo. È Islam insieme, è una forma di cristianesimo che va incontro all'Islam. Poi soprattutto modestia. I capelli sciolti si possono portare però senza esagerare, ovvero senza mostrarsi, come vedrete più tardi, come le famose prostitute o sacerdotesse del Tempio. Quindi in poche parole la modestia è anche cristiana, è anche e soprattutto cristiana, perché l'Islam venne dopo, mentre le scritture di San Paolo sono più antiche. I fratelli musulmani consiglio di andarsene a leggere. Con questo è tutto, vi saluto.